Benvenuti su Master of Magic, noi siamo qua con i grandi campioni della magia e ci fa compagnia Xavier Mortimer. In Francia c'è la scuola di Marcel Morceau? Sì. Ma tu sei della scuola inglese di Desmond Jones, no? Desmond Jones è la misma scuola che Marcel Morceau. Desmond Jones è la scuola di Etienne Ducroux, che chiamiamo il padre del mio, moderno. L'ostessa di Lupi. Chi? Lupi. Ah, stessa, Jean-Philippe Lupi. Sì, sì, sì. Ma questa scuola ti dà molte tecniche, ma la scuola che io faccio è la misma scuola di MIMO che Charlie Chaplin, Buster Keaton. Il gioco è slapstick, il gioco del corpo, dello corpo per dire qualche cosa nella situazione. La situazione. Quando creo un trucco di magia, non dico, ok, apparizione di questo, apparizione di questo, disparizione di questo. No, io dico solo si passa questo, dopo perché si passa questo, si passa questo, e vado ad arrivare qui. Come? Questo e questo. Ah, sì, sì, questo, e la situazione è come un nodo. Sì, sì. E la situazione si va così, perché un trucco porta un altro trucco e si finisce la situazione. Non voglio contare una storia, mai, mai contare una storia, ma una situazione. E per situazione cosa intendi? Una situazione è una cosa che si passa, che succede, che comincia a un punto, che finisce a un altro punto, con tutto regolato per arrivare a questo punto. E la maniera, la maniera, sì, con quale Charlie Chapin lavorava su sequenze, sequenze, sì, corte, molti anni, cortometraggie. Sì, sì, cortometraggie. Una situazione, il mago, il personaggio, qualche cosa, è qui, in questa situazione. Devi, per arrivare a questa situazione, fare apparire, apparire, fare apparire questo, fare disparire questo, e cambiare questo. E dopo, ah, ok. È molto difficile, perché è come un lavoro matematico. Sì. Sì. Beh, a volte funziona. Quando nel 2002 hai vinto Abano, ferme, sei uno dei nostri campioni. Sì, è vero che la parte del tuo numero con le bolle, lo hai perfezionato ad Abano, hai capito ad Abano che poteva funzionare, vero? Sì, fu una buona sorpresa per me di stare compiando di Abano nel 2002, sì. Fa molti anni, fa molti anni, ma sì, sì, mi ricordo, sì, era una buona sorpresa. E con questo numero, sì, questo numero era il numero dei congressi, con molte tecniche, molto... e dopo lavoreremo con Jean-Paul Roland e abbiamo pulito tutto. E di questa maniera, oggi, io lavoro. La tecnica non mi importa. Ah, bene. Se voglio fare disparire questo... Questa foglia? Non mi importa. La foglia dispara. Dopo. Ah, ok. E questo appare... Come... Sì, ma lo trovo sempre, lo troviamo sempre, perché lo sappiamo, lo sappiamo che... Sì, di questa maniera o di un'altra, non importa, questo dispara. Tu hai frequentato tanti teatri importanti, sei stato a Disneyland. L'anno prossimo troverai le Cirque du Soleil a Las Vegas, tra l'altro, che è la cosa più difficile che si può studiare. Non so, no, è la cosa più grande per il momento, ma non so. Cosa farai a le Cirque du Soleil? Sono un personaggio nel nuovo spettacolo che creano in Montreal, sono in la creazione. Vado a vedere. Non so, non so tutto. Mi chiamano e sì, noi parliamo di tutto e sì, ok, 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 facciamo questo, sì, sì, ok, ok. E adesso aspetto per la creazione. Ti posso chiedere una cosa, no? Ieri sera, insomma, hai avuto due o tre standing ovation nel finale. Avevi Arturo Brachetti, che si è alzato in piedi, avevi tutti i maghi, Max Madden, tutti i maghi importanti, che erano tutti in piedi ad appare a virti. Che cosa si prova? Beh, mi fa piacere, è molto piacere di essere riconosciuto, per la gente che crea e che mi ha dato di fare questo lavoro. Che senza Arturo Brachetti, Max Madden e tutti questi personaggi, io non avrei fatto questo. Dunque, è geniale. L'ultima domanda, come si fa a diventare Xavier Mortimer? Come si fa? Io mi chiamo Aldo Ghirmino, tu hai trasformato Xavier Miller-Chambe in Xavier Mortimer, se io voglio trasformare Aldo Ghirmino in Aldo Mortimer, come posso fare? Ah, un po' di polvere, un po' di polvere che si incontra solo in un villaggio in Francia, più un po' di flore, che si incontra, le fiore, le fiore violette. Il miscolo, un po' di sal, perché non è molto... Tutti i giorni? No, due volte per giorni, per una settimana, e dopo ti pari per una settimana, e dopo una settimana più, e il cambio si va, più o meno. Ok, lo farò. Grazie mille Xavier, siamo contentissimi di averti qua. Grazie mille Xavier, siamo contentissimi di averti qua.